Siamo? Vai, ma dove piove ragazzi? Buongiorno! Ma questo è l'orario? Vieni a pranzo, cucù! Ciao Elio, tutto bene? Ma guarda! Ma sai che farebbe quella? Come tu manci? Non sa mai fare, per te sedere! Ma guarda! Poi dopo di quelle cattiverie! Non le dire! No, mi tocca fare il taglio in colla! Io dopo delle cattiverie, poi si misura! No, non è vero, non è vero! Ah ragazzi! Quando sei stancho? E allora? E tre mezza! E tre mezza! E non sono alla sveglia, non sono alla sveglia! Mi metti a mangiare! Non mi no, guarda sta preparando la tavola! Guarda! No! Ma aveva detto... Ma veni a pranzo, veni a pranzo! Vieni a pranzo! Guarda, a punto guarda! Sacre! Grazie! Fu qui! Luigi! Ruino! Guarda qua! Ma come si fa? Grazie! Grazie! No! 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 Mmmmmmmmmmmmmmmm! lezione in estremis della frittura Alessandra la ci ha salvato via anche oggi vai 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 e vai ragazzi sentite come piove siamo entrato appena ora nel bosco guardate un po' che cosa c'è qui insieme alla pioggia c'è anche il primo funghetto e beh dai matto 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 avanti 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 qui c'è un altro qui c'è un altro senti il gambo mamma mia mamma mia mamma mia che bellezza la fase avanti 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 ragazzi guardate qualcosina di nascita ancora vedete funghetto proprio in tiro guardate bello però guardate voi che cosa c'è qui aspettate 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 no no ragazzi no uno due tre no mamma mia che belli che belli che belli 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 favolosi Erika Alessandra Sandrina voi vi portate bene io ve lo dico e vi portate bene perché entrare nel bosco va bene alle tre con la pioggia con tutti che tu vuoi però con una buona frittura mista e patate favolose guardate un po' che c'è qui guardate un po' che c'è qui eh questo questa è una radia speciale ragazze eh ragazze questo è per voi eh eh ragazzi per questi per questi non c'è una piccia di tre uno sopra quell'altro guardate qua ma guardate qua matto 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 cinque funghi guardate un po' uno più bello che l'altro e vai avanti 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 con un altro e con un altro ragazzi vecchietto ma oh 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 vai 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 avanti 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 ragazzi guardate che ci sarà qui sotto che ci sarà qui sotto qui sotto abboccano allora avete visto eh vabbè lì non c'era però questo questo guardate il funghetto guardate il funghetto ma aspettate aspettate perché qui c'è cosa vedo lì cosa vedo lì cosa era lì cosa vedo lì guardate un po' guardate un po' questi due altra ricerca su connessione Stefano Roberto sono venuto nel bosco con la pioggia per voi guardate un po' guardate un po' belli guardate un po' mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia i funghi che funghi belli allora guardate il quadrettino è questo questi sono per voi eh questi domani mattina presto sarò in valle d'aosta per un concorso importantissimo di vino concorso internazionale dei vini estremi e quindi sarà una grande bella esperienza ai quali porterò agli amici tanti bei funghi e vai avanti 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 ragazzi essere arrivati così tardi da avere questi bei funghi sotto gli occhi matto matto e va questi sono i primi galletti della stagione vedete le piogge le ultime piogge hanno dato il là anche alla nascita dei gallinacci e vai avanti 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 e vedete guardate voi che c'è qui guardate i funghi mamma mia mamma mia chi l'avrebbe mai detto forse si sarà detto eh ragazzi dopo tanti faggi siamo ritornati ai castagni ma il castagno non ti smentisce mai ragazzi guardate bellissimi bellissimi avanti 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 sono questi belli 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 bellissimi direi proprio erano un po' più figli ragazzi molto belli molto bella avanti 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 quando si dice una rossella di peso guarda che posto bello ragazzi bellissimo bellissimo tanta tanta gioia piove ma va bene lo stesso guardate qua che posto ragazzi guardate un vecchiarone però un vecchiarone quando alzano quando alzano guardate qua bello 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 questo va questo va fritto avanti 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 guardate bellini guardate bellini due gallinacci e vai avanti avanti eccoci qua ragazzi di nuovo in caccia guardate dove si è riparato un fungo guardate dove si è riparato un fungo anche questa è una cartolina guardate qua guardate se non è una cartolina favoloso favoloso mamma mia mamma mia bello 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 ma guardate ma guardate quest'altro guardate dov'è questo sergente che bello che bello che bello mamma mia mamma mia è venuto un po' non è venuto un po' un po' non è venuto così bene io lo so faccio guardate che funghi ragazzi che funghi e vai avanti 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 ma guardate ma guardate quello mamma mia mamma mia mamma mia perfetti perfetti avanti 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 ecco un altro guardate questo qui c'ha c'ha la felcia che l'ha tagliato vedete i legni sopra è venuto un po' un po sformato però guardate è la lumaina si divide si divide con la lumaina ragazzi e vai via ti va a fare una giratina ora eh su 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 uno di nascita vedete piccolino e qui invece sono due o tre funghi guardate una piccia mamma mia 90 ok ragazzi l'alternativa potrebbe essere di sedere la lumaina ella ci porta sicuramente indosser il fungo matto e piove avanti 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 matto sentitemi piove ma come si fa anche se piove così a venir via quando quando ci sono cappelli così ma guardate questo questo è un'astronave mamma mia mamma mia vada perfetto e piove ma felice avanti 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 quello e questo qui questo qui ce lo volevi lasciare ce lo volevi lasciare questo eh avanti 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 e lì mai arrendersi bravo bisogna mai arrendersi vero ma che c'è qualcosa la gente la scappa ragazzi la gente la scappa va 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 non si è fermato nemmeno un secondo e vai avanti 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 noi siamo diversi non c'è nulla da fare e toccano a tutti corri corri ma se è bello ma se è un bambino avete visto quel signore che correva 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 se va da matti avanti 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 ragazzi allora lo voglio far vedere perché proprio lì davanti c'era quel signore che correva come un matto come un matto e guardate cosa si perde si perde questi funghetti e non si corre e non si corre c'è un po' da fare se tu puoi trovare funghi ci vuole arte pazienza e vai avanti 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 senti guardate tempo di corsa sempre di corsa invece guardate qua che astronave c'è qui si è salvata perché vedete c'è un po' di faccio un po' di foglie e questa qui guardate qua ma guardate che fungo che bellezza è questo qua guardate qui mamma mia mamma mia mamma mia che petano mamma mia ora ande ora ande lo levo ve lo vedete vai che fungo è questo è un fungo da 10 ragazzi questo è un fungo voi non ve lo immaginereste mai guardate qua guardate qua ma un chilo no no non è possibile ragazzi un fungo sì credetemi non è possibile e c'è gente che corre lassù numero uno fuggila da capo cibo ragazzi e sentite qua come piove sentite voi l'acqua e come si fa ad andare via e trova dei fungiosi impossibile avanti 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 ragazzi si continua e si continua e continuiamo guardate qua e vai matto 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 piove e piove ragazzi però guardate un po' guardate un po' guardate un po' ragazzi guardate qui che c'è qui che c'è ma niente qui c'è un altro guardate piccolino questo si potrebbe anche lasciare questo si potrebbe anche lasciare e qua guardate però che cosa c'è qua guardate un po' che cosa c'è qua e poi c'è una cartolina questa è una cartolina questa è una cartolina guardate qua guardate qua e questo e questo uff bene guardate 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 voi che pietà ragazzi avanti 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 ma ci vanno qui che cosa che cosa si ne esce guardate non è bella la salamanda la salamanda ti lascio ti lascio non ti preoccupare bellissima bellissima avanti 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 ormai è buio vedete si fa veramente fatica a trovare a vedere i funghi ma guardate qua guarda che bellezza mamma mia mamma mia mamma mia piove è buio e si continuano a trovare i funghi avanti 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 senti come piove senti come piove senti come piove mamma mia mamma mia mamma mia e vai matto 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 con questo tempo a cercare funghi questo è il normale adesso però basta con questo vecchio castagno io e non è il caso continuare i funghi ne abbiamo trovati tantissimi veramente e di belli adesso però si incamminiamo verso la macchina e avanti 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 con una cistella piena ai funghi